Buongiorno, è lunedì e Roberto è qui con noi. Siamo qui perché dobbiamo festeggiare un'avvenimento importante, siamo Jump Mascherom, vi ho il nuovo sovrannome. Jump, finalmente il campionato è finito, andiamo, andiamo, sono Semole Vagliadorno fino a settembre, finalmente. Allora, oggi proseguiremo in serie su www.vinistrike.com, tutte le novità e i vinili originali. Oggi ragazzi siamo partiti ascoltando questo fantastico album di Chris Thompson, eccezionale a O.R., se amate Brian Adams, se è un O.R. americano in generale, questo è bellissimo, stampa originale da 5 euro, parlare sul sito www.vinistrike.com, se beh, sono contento che ha finito il nostro campionato. Già la Formula 1 è finita dopo il primo Gran Premio, ancora la Formula 1, vi stai a vedere ancora la Formula 1, cioè lo sport più utile, a forse più importante è la box, che già finita dopo il tempo. Venite qui da noi a sentire un po' di musica, sono proprio contento, se siamo arrivati al campionato, finalmente, finalmente, Jump!